Un mezzo adibito alla raccolta differenziata dei rifiuti dell'umido di una ditta convenzionata con l'aset, questo pomeriggio intorno alle 15 si è ribaltato su di un fianco finendo nella scarpata in maniera autonoma al lato della strada, forse per il cedimento del limite estremo della careggiata in terra che ha contribuito al ribaltamento del mezzo carico di sacchetti dell'immondizia. La polizia locale di Fano dovrà così accertare l'esatta dinamica dell'incidente e capire perché il mezzo ha messo le ruote sul ciglio della careggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Fano che hanno aiutato l'autista ad uscire dal mezzo che è sempre rimasto cosciente e collaborativo. Sul posto anche il 118 che ha prestato soccorso al conducente che nell'urto ha riportato ferite lievi, un fanese di 48 anni che per accertamenti è stato portato al pronto soccorso di Fano. Il campo adiacente, la strada poco al di sotto della sede stradale ha sicuramente attutito l'urto ed evitato il peggio. Il mezzo poi è stato rimosso con l'ausilio di una pesante gru fatta arrivare appositamente per l'operazione. Una pattuglia della polizia locale di Fano poi per i rilievi di legge e anche per regolamentare il traffico e il flusso dei veicoli lungo la strada.